Sembra essere di natura dolosa l'incendio che nella notte intorno alle 3 ad Alessano ha distrutto una Volkswagen Polo intestata ad un 33enne del posto disoccupato, incensurato. Le fiamme sarebbero partite dopo che i gnoti avrebbero versato del liquido infiammabile. Le lingue di fuoco hanno interessato parte del gazebo di una caffetteria e un'altra vettura. Lievi danni anche sulla facciata di un immobile. La zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco del distaccamento di tre case. per le indagini carabinieri della stazione di Alessano assieme ai colleghi della sezione radiomobile della compagnia Tricasina al vaglio degli investigatori filmati dei sistemi di videosorveglianza di cui fortunatamente è dotato l'isolato.